bentornati a un nuovo capitolo di questa serie dedicata ai filtri di photoshop oggi andiamo a vedere il prossimo filtro in ordine alfabetico per cui abbiamo effetto acquarello siamo all'interno della prima cartella la cartella artistico e come stiamo vedendo questi effetti in qualche maniera simulano tutti qualcosa di artistico pitture ritagli cose di questo tipo effetto acquarello come facilmente intuibile sta simulando delle pennellate in acquarello se andiamo a vedere nel dettaglio vediamo che sembra proprio che ci siano delle pennellate di colore bagnato su quella che prima era una foto allora come sempre mettiamo tutto a sinistra e andiamo a vedere che cosa fanno questi slider il primo dettaglio pennello sostanzialmente mi dà un pennello con una punta più o meno grande anzi anzi più che variare la dimensione della punta direi che varia il numero di pennellate sì infatti dopo di che abbiamo un'intensità ombra che va a scurire va ad agire sostanzialmente sulla quantità di nero che viene utilizzata infatti se lo mettiamo a zero è più simile alla foto originale mentre se andiamo tutto a destra è quasi completamente nera dopodiché abbiamo una texture che si riferisce suppongo alla texture delle pennellate infatti qui vediamo che la texture delle pennellate sulla nostra immagine è molto più evidente rispetto a prima come si può usare questo effetto secondo me come sempre una via di mezzo è la cosa migliore nel senso difficilmente mi posizionerò a 14 ma da qualche parte nel mezzo poi come dicevamo in altri episodi va anche a gusto perché questi effetti sono artistici quindi non esiste un modo giusto o sbagliato di usarli se stessimo cercando di ottenere un effetto ben preciso potrebbe essere così ma in questo caso direi che è una decisione che si basa unicamente sul nostro gusto per esempio supponendo con questo filtro di voler ottenere un effetto simile acquarello io credo che starei su qualcosa di questo tipo anzi forse anche un pochino di me ecco qualcosa di questo tipo in modo che sia evidente che è un acquarello ma che non sia esasperato in questa maniera che così si comincia a perdere un pochettino quello che è la gradevolezza dell'effetto mentre in questo modo diciamo che è un po più vicino alla foto si capisce che è un effetto però non è estremo vado ad applicarlo e questo è il nostro effetto applicato una cosa interessante quando io faccio annulla io posso subito dopo ho applicato un effetto ho annullato l'azione che ho fatto a questo punto io potrei duplicare questo livello se vado a fare se vado su filtro e vado a dirgli galleria filtri lui mi riapplica il filtro che io ho appena applicato con gli stessi parametri in questo modo io intanto tengo una copia dell'originale sotto è un metodo alternativo all'oggetto avanzato che abbiamo visto in episodi precedenti fondamentalmente ma un'altra cosa che posso fare è selezionare queste immagini che a questo punto vado a chiamare effetto e posso regolarne l'opacità per esempio per esempio in questo caso secondo me con un 65 per cento di opacità è più gradevole piuttosto che a 100 per cento vediamo 60 e vediamo 100 secondo me è più gradevole a 60 ovviamente varia questione dei nostri gusti personali secondo me questo è un tentativo che vale sempre la pena fare vedere cosa succede a miscelare l'effetto con il livello originale